Durante l'ultimo consiglio l'assessore Baretta aveva dato un messaggio di accelerata per l'insediamento delle commissioni, però ancora non si sono insediate, non se ne è discusso. È importante che si uniscano per far partire? Le forze politiche si stanno incontrando, stiamo definendo l'assetto delle commissioni, quindi penso che in tempi rapidi avremo la Costituzione delle commissioni.